Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10, pagina della cronaca giudiziaria in apertura del notiziario. Vi riferiamo della confisca di beni per un valore di 25 milioni di euro eseguita questa mattina a Gela dalla DIA di Caltanissetta. Il tesoro appartiene ad un imprenditore che per gli inquirenti è legato alla famiglia mafiosa degli Emanuello. Vediamo. Un vero e proprio tesoro accumulato grazie agli interrecci mafiosi. Per gli inquirenti è stato un personaggio di spicco della famiglia Emanuello di Gela. Lui è Sandro Missuto, 36 anni, imprenditore. Questa mattina gli uomini della DIA, direzione investigativa antimafia di Caltanissetta, diretti dal colonnello Giuseppe Pisano, su richiesta della Corte d'Appello Nissena, hanno eseguito la confisca dei beni. Un tesoro di 25 milioni di euro che adesso passano definitivamente allo Stato. Si tratta delle società ICAM e IGM, di un fabbricato di 5 piani, 2 appartamenti, 3 terreni per complessivi 4 ettari, 63 mezzi, autovetture, autocarri, escavatori, betoniere, 3 conti bancari, 3 auto ed una moto. Le imprese operavano nel settore della produzione, trasporto e fornitura di calcestruzzo, demolizione di edifici e sistemazione del terreno. Le indagini della direzione investigativa antimafia hanno messo in luce un rapporto strategico di Missuto con Cosa Nostra. Il 20 dicembre del 2010, la stessa DIA sequestrò i beni riconducibili a Missuto, dalle indagini emerse che l'uomo, tramite le società sequestrate in quell'occasione, riusciva ad aggiudicarsi numerosi subappalti e contratti di nolo per conto di Cosa Nostra gelese. Missuto nel 2009 era stato arrestato nell'ambito di due operazioni Cerberus e Compendium per associazione mafiosa e estorsioni. Si sarebbe personalmente occupato della messa a posto di alcune imprese appaltatrici. Missuto aveva allargato la propria influenza nella struttura di vertice della mafia a Gela a seguito della morte del capoclan Daniele Emanuello. Ancora cronaca, tre minorenni di Gela sono stati denunciati dalla polizia del locale commissariato. Due devono rispondere di furto, l'altro di detenzione di droga. Gli agenti hanno fermato un 15enne in possesso di 14 involucri di pellicole in alluminio contenente 12 grammi di hashish già suddivisa in dosi e pronto per essere spacciato. Una successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire all'interno di un cassetto di una scrivania nella cameretta del giovane un panetto della stessa sostanza stupefacente del peso di 16 grammi. Il ragazzo è stato segnalato alla procura dei minorenni di Caltanissette e affidato ai genitori. Un 15enne e un 14enne invece sono accusati di avere commesso il furto e danni di un altro minorenne di un telefono cellulare custodito nel marsupio della bicicletta. Basterebbe mettere in funzione le telecamere installate con il progetto Gela Città Futura al fine di reprimere gli incendi e gli atti vandalici. Lo dice il capogruppo consigliare del megafono Sara Bonura che ha presentato una interrogazione alla giunta messinese. Nel 2005 il sindaco attuale presidente della regione Rosario Crocetta con il progetto Gela Città Futura aveva fatto installare in città numerosissime telecamere appunto per contrastare il fenomeno della microcriminalità. Ad oggi il 90% delle telecamere risulta fuori uso. Pertanto ho fatto questa interrogazione per chiedere al sindaco di fare una manutenzione sia dei 5 server o addirittura di sostituire le telecamere. Dunque le telecamere potrebbero servire da deterrente? Certo potrebbero servire da deterrente anche perché si vedrebbe chi in qualche modo compie questi atti dannosi per la nostra città. Inoltre ogni anno erano stati previsti circa 40.000 euro per la sistemazione delle telecamere e per la manutenzione e però ad oggi a quanto pare non risultano che siano stati utilizzati. Bonura ha chiesto al sindaco di convocare un vertice sul tema sicurezza alla presenza del prefetto e dei vertici provinciali e locali delle forze dell'ordine. Io ho chiesto un vertice, che venga convocato un vertice al sindaco dove appunto debbano partecipare il prefetto, il questore, il comandante della polizia municipale e tutti i dirigenti delle forze dell'ordine nonché anche i professionisti utili per sviscerare il problema in modo valido e profondo e a portare delle soluzioni a questo fenomeno che ormai non si riesce più a controllarlo. Ma al di là del funzionamento delle telecamere sarebbe però anche opportuno che la gente a Gela quando si accorge di qualcosa denunciasse? Eh certo, anche questo, però è anche vero che nonostante vengano denunciati questi fatti purtroppo non si riesce a trovare chi li commette. Dunque l'auspicio, l'augurio è che le telecamere funzioni e che si possa vivere in massima tranquillità. Certo, l'auspicio sarebbe quello di poter dormire serenamente a casa nonostante le macchine vengano lasciate tranquillamente, parcheggiate sotto la propria abitazione. ...le citazioni di alcuni rioni. La nostra azione ha continuato il primo cittadino che è decisa e determinata, richiede iter burocratici e risorse economiche. Il nostro cronoprogramma segue con la massima attenzione le condizioni in cui versano alcuni quartieri senza particolarismi che in passato sono stati fatti a favore di bacini elettorali di riferimento. Chiediamo la massima collaborazione ai cittadini perché gli sforzi eseguiti non risultino inutili a causa dei soliti vandali o incivili che fanno ricadere nel degrado i nostri quartieri. Un appello voglio rivolgere anche a quei pochi consiglieri comunali sedicenti grillini che in giro per i quartieri gelesi si comportano come gruppi di bambini americani che vagano mascherati per Halloween. Nessun politico responsabile si può permettere in questo momento di strumentalizzare il disagio dei nostri concittadini, neanche in considerazione di pretendere un dolcetto per tendere uno scherzetto all'amministrazione comunale, conclude Messinese. Adesso parliamo dell'inaugurazione della biblioteca Licio Classico Eschilo di Gela intitolata al compianto Nicolo Di Fede. Vediamo. Oltre 11.000 libri nella nuova biblioteca del Licio Classico Eschilo di Gela è intitolata alla memoria del preside Nicolo Di Fede, uno spazio plurale che sarà aperto alla città, assieme cultura e conoscenza. Ieri taglio del nastro alla presenza del governatore della Sicilia, il gelese Rosario Crocetta, la benedizione dei locali è stata affidata al vicario foranio Michele Mattina. Inaugurare una biblioteca è sempre un elemento importante perché avere una biblioteca, la cultura è la ripartenza di tutto, non ci può essere rinnovamento della società senza cultura e soprattutto non c'è cambiamento della società senza l'impegno dei giovani che rappresentano anche la possibilità di migliorare la società, magari riparando gli errori del passato e introducendo forti elementi di cambiamento e innovazione. Senza i giovani la società sarebbe ferma. Visibilmente soddisfatto il dirigente scolastico Gioacchino Pellitteri. È una giornata che aspettavamo da molto tempo perché abbiamo costruito letteralmente questo spazio plurale di una biblioteca che è storica, che era stata bruciata una quarantina d'anni fa e che ha ospitato la cultura, l'intelligenza gelese anche per il patrimonio di libri che in essa è contenuto e che necessitava di un adeguamento che oggi finalmente abbiamo. L'abbiamo denominato spazio plurale, l'abbiamo denominato così perché è una biblioteca di libri ma è anche una biblioteca in cui attraverso il wifi si possono avere le poltroncine e i tavoli e dieci computer e si possono fare tutte le ricerche del caso. Alla inaugurazione di ieri erano presenti tra gli altri il sindaco Domenico Messinese e Giuseppina Basta Donzelli docente merito di letteratura greca all'Università di Catania. Li sentiamo. Si inaugura una biblioteca in una scuola, è un segnale forte, un nuovo presidio culturale in una città che ha veramente fame di cultura. Benvengono tutti i punti di aggregazione, benvengono tutti i punti dove è possibile non soltanto esprimere le proprie idee ma poter immergersi nelle idee dei grandi della storia. Quindi una biblioteca è sempre un centro di aggregazione importante per chiunque voglia crescere sia socialmente ma individualmente. Il teatro antico fa parte della nostra identità culturale. La nostra identità nasce da Atene, Roma e Gerusalemme. Questo l'ha detto un grande pontefice, Benedetto XVI. E ricordiamoci tutti che un popolo senza identità è destinato a soccombere ad altre identità, forse meno civili. Premiazione del concorso fotografico Le Dune Gelesi indetto dal Soroptimist Club di Gela si terrà giovedì 12 maggio alle 17.30 presso l'istituto scolastico Luigi Capuana di Via Palazzi. Interverranno il sindaco Domenico Messinese, l'assessore comunale Francesco Salimitro, Laura Carullo dell'Università degli Studi di Catania, Emilio Giudice, Direttore della Riserva Naturale del Biviere di Gele, Francesco Vacirca, Presidente dell'Associazione Leopoldi Agricoltura, Biodiversità e Rigenerazione del Territorio. L'ENI Group Club e l'Istituto Tecnico Industriale Morselli insieme nella manifestazione intitolata L'ITIS dipinge. 60 studenti e gli allievi dell'Accademia di Pittura ENI Group Club si cimenteranno in un inedito progetto di pittura che nasce da un'intuizione di Giacomo Alessi, Presidente del Consiglio d'Istituto e componente del direttivo dell'Associazione Dopolavoristica ENI Group Club. Il progetto prevede due giorni di incontri nei quali verranno realizzati due dipinti di paesaggi moderni su tele con colori acrilici. La finalità è quella di avvicinare alla cultura pittorica ragazzi che provengono da studi prettamente tecnici. Seguirà l'andamento dei lavori l'insegnante dell'Accademia del Club Valentina Catalano. La manifestazione è articolata in due giornate, la prima è il 12 maggio, la seconda è il 17 maggio nel Salone del Centro Culturale di Viale Corte Maggiore. Bene, era questa l'ultima notizia della prima parte del nostro telegiornale. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Si terrà giovedì 12 maggio prossimo alle 19 presse locali del Museo Archeologico di Gela la presentazione del romanzo di Vera Ambra, Piume, baciatemi la guancia ardente. Porteranno il saluto della città natale di Salvatore Damaggio, le autorità cittadine, i presidenti delle associazioni Rotary Club, Fidapa, Lions Club del Golfo, Chivanis, Proloco, Gela, Archeoclub, Lega Navale. Piume, baciatemi la guancia ardente, un romanzo storico e biografico, liberamente ispirato alla vita e alle eroiche gesta di Salvatore Damaggio, tenente, bersagliere, mitragliere, gelese, protagonista e indiscusso della Grande Guerra. Il libro ha ottenuto anche il logo ufficiale per il centenario della Prima Guerra Mondiale, concesso dalla struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e anche il patrocinio morale dell'Associazione Nazionale del Fante. Progetto Primavera oggi al primo istituto comprensivo di Albani Roccella. Sentiamo di cosa si tratta. È il terzo anno che è attivo questo servizio, però quest'anno è decisamente ampliato, perché la richiesta è notevole e l'amministrazione ha fatto proprio questo progetto, tant'è che con il supporto che l'amministrazione ci ha dato abbiamo avuto la possibilità quest'anno di offrire un servizio non più a 25 bambini, come abbiamo fatto nei due anni precedenti, ma a 50 piccoli pulcini che tutti i giorni frequenteranno questo servizio fino al 31 luglio. Le risorse hanno permesso di avere il doppio degli operatori, nonché una figura specialistica che è una psicomotricista, che permette anche agli alunni in difficoltà, perché già così piccoli sono presenti anche all'interno della sezione Primavera, conferma che il 2 aprile non è soltanto una data cronologica, ma esiste sempre, per cui abbiamo la possibilità di far fronte come forma di prevenzione anche agli alunni che sono in difficoltà. È un progetto, devo dire, che esiste in Italia da più di dieci anni, ma che ha attecchito in Sicilia soltanto da qualche anno. Nella provincia di Caltanissetta praticamente non esisteva. Il rammarico era che quest'anno, a fronte di una richiesta così alta, la Regione Sicilia avesse ridotto i finanziamenti, ma, devo dire, grazie all'amministrazione abbiamo avuto la possibilità di compensare la carenza dei fondi regionali e rimpinguare ulteriormente le risorse per ampliare il servizio. Il Comune deve dare dei servizi nel territorio e devo ringraziare le strutture scolastiche, come la dirigente marchiciana, che è presente nel territorio e fa un grande lavoro di educazione proprio sul futuro della nostra città, che sono i bambini. I bambini devono essere gestiti, devono essere accompagnati sin da piccoli. Non potevamo, come amministrazione, essere accanto a questo progetto, che è stato anzi potenziato. Non potevamo rischiare di farlo sparire, che era la cosa che sicuramente sarebbe stata una grave perdita. Anche perché la buona volontà dei dirigenti scolastici bisogna anche accompagnarli con atti concreti perché bisogna trovare quei fondi che necessitano per questo tipo di attività. Sono delle scelte. Questa credo che sia una scelta giusta perché è un investimento per il futuro. In questa struttura saranno appunto accolti ben tre bambini con disabilità definibili, gravi, e quindi questa sicuramente diventa una risposta non solo dal punto di vista didattico, ma dal punto di vista sociale, sicuramente una vittoria. Abbiamo sistemato gli spazi esterni, che erano una situazione abbastanza problematica, quindi è un intervento sinergico di tutte le componenti del comune. Abbiamo intenzionato sia con la Gelas, sia con il settore tecnico dei lavori pubblici, quindi tutti insieme, se si lavora di squadra, si ottengono ottimi risultati. Continuano le iniziative inserite nel calendario della Primavera dell'Arte, giunta alla sua quarta edizione, promosse dal gruppo archeologico d'Italia Geloi Triskelion, in collaborazione con altre associazioni presenti sul territorio. Venerdì 13 maggio alle 19, nei locali del museo, è prevista una mostra archeologica con reperti inediti. Domenica 15 maggio alle 9.30, ai Bagni Greci, si terrà l'iniziativa Archeologia ritrovata, valorizzazione e cura del patrimonio archeologico gelese. Sabato 21 maggio alle 21, alle Mura Timoleontei, chiusura con la Notte Europea dei Musei, le Mura di Notte. L'accoglienza dello straniero, dalle supplici di Eschilo alle immigrazioni dei nostri giorni. E questo è il tema di un incontro dibattito promosso dal Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia, preseduto da Flora Montana Santa Maria, che si terrà domani alle 17.30, presso l'aula magna dell'Istituto Comprensivo Statale Enrico Mattei di Gela. L'evento rientra nel piano delle attività e delle iniziative programmate dall'Istituto. Come ogni anno, l'Istituto Mattei prevede un tema centrale, articolato e sviluppato, nei diversi ambiti disciplinari. Quest'anno il tema centrale è identità e integrazione. Domani sono previsti gli interventi di Agata Guelli, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Enrico Mattei, e di Francesco Pira, sociologo e docente di comunicazione all'Università di Messina e all'Università Salesiana di Venezia. Coordinerà il dibattito Flora Montana Santa Maria. Così come prima annunciato, nei giorni scorsi è stato demolito ieri quel che rimaneva del vecchio pontile allo lungomare Federico II di Svevia a Gela. Oramai il locale era divenuto un rudere che ha accompagnato i lavori di rifacimento della zona. La struttura in legno è stata abbattuta. Questa struttura oggettivamente non ha consentito di ultimare i lavori dell'attuale di riqualificazione del lungomare. È stato un intenso lavoro con la regione siciliana. Ci siamo sostituiti di fatto alla regione stessa per poter fare la demobrizione e consentire il completamento delle opere. Quindi evitare di avere questa struttura che di fatto impediva il completamento del lungomare credo che era importante e fondamentale. Finalmente si sta demolendo, si sta smantellando in modo tale che per questa estate vediamo di avere il nostro lungomare completo. I lavori inizieranno immediatamente dopo la demolizione di questa struttura in legno del vecchio pontino e inizieranno il completamento di questo ultimo tratto del lungomare. All'Italia dobbiamo ringraziare i funzionari della regione siciliana di quali da otto mesi siamo in stretto contratto e abbiamo fatto tutte le procedure in modo celere per consentire di poter revocare di fatto le concessioni, di poter consentire di acquisire il bene e di farci poter trasferire per poterlo alla fine debolire. Quindi un itere burocratico non semplice, abbastanza complesso ma che siamo riusciti a ottemperare in tempi predici. In merito alla dogana abbiamo fatto già un brocollo con la Capitaneria di Porto e con il Demanio al fine di poter consentire di riqualificarla e la riqualificazione consentirà di avere un locale che può essere utilizzato in parte dal Comune, in parte dalla stessa Capitaneria di Porto per uso pubblico e quindi il fatto di poterla ristrutturare sicuramente serve a completare perché sarebbe un peccato lasciarla in queste condizioni l'odogana, sarebbe un'evidente anomalia in un luogo dove si è fatta una riqualificazione ma il pensiero è quello di andare a creare comunque un luogo pubblico dove poter avere informazioni si pensa di tipo turistico. Nel Dito Eden abbiamo fatto un intervento di pulizia che era da diverso tempo che non veniva fatto anche per evitare che quei luoghi diventassero un ricettacolo di rifiuti, un luogo dove potersi nascondere per alcuni esseri mondiali che di fatto lo avevano trasformato in una specie di camping non autorizzato. L'amministrazione ha voluto mettere fino a questa tradizione ridando quella dignità perché è impensabile che nel pieno centro abitato sul lungomare ci sia un campeggio abusivo di persone che per vivere hanno bisogno delle necessità, necessità che sicuramente in quel luogo non potrebbero essere soddisfatte. Si svolgerà domenica 15 maggio dalle 16 alle 20 l'iniziativa promossa dall'archeoclub di Gela Invadiamo la torre di Manfria. Guidati dai soci dell'archeoclub i partecipanti potranno gustare la storia e le leggende che riguardano la spettacolare torre di avvistamento e segnalazione cui lavori iniziarono nel 1549 e furono completati nel 1615 che è stata una delle torri costiere più importanti della Sicilia. Per informazioni bisognerà contattare i numeri di telefono 349-2698-140 oppure 349-2914-597 C'è lo spettacolo, appuntamento col teatro all'antidoto di Macchitella Gela giovedì 19 maggio alle 21 sarà proposto attenti a quei due con Emanuele Giammusso, Guglielmo Greco e Lori Ardore. Le proiezioni cinematografiche sono state sospese e riprenderanno a settembre. Bene, con questa notizia che riguarda lo spettacolo è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito fin qui, arrivederci.